Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per aver fornito indicazioni sulla propria identità un cittadino rumeno, APG, queste le proprie iniziali, nato nel 1983 senza fissa dimora in città. In evidente stato di alterazione alcolica, all'uomo è stato vietato l'ingresso nella sala bingo di Piazza Goldoni ed ha avuto un diverbio con l'addetto alla sicurezza. E' stato informato nel frattempo il 113 sul posto, si è recato il personale della squadra volante della locale Questura. Gli operatori hanno sentito le parti del comunitario sia rifiutato di fornire le proprie generalità assumendo atteggiamenti e comportamenti molesti ed oltraggiosi. Anche in Questura l'uomo ha manifestato la propria ostilità lanciando alla fine su un tavolo la propria carta d'identità dopo le formalità di rito, è stato denunciato.